Questa settimana a soli 49 centesimi al chilo, patate locali bianche, rosse e gialle, l'orto del Casale, freschezza e bontà a chilometro zero. Ti aspettiamo nei mercati di Riva Nazzano Terme, Viguzzolo, Casal Noceto e Volpedo. Secondo recenti studi scientifici, imprecare fa bene alla salute mentale. Le parolacce costituiscono quasi l'1% del vocabolario quotidiano, tanto quanto diciamo noi o nostro. Ma i cittadini di sale condividono i risultati di questa ricerca? Lo andiamo a chiedere a tre persone fermate in maniera casuale nelle vie del paese. Per me ci vorrebbe un po' più di... come si dice... Eleganza nel parlare. Eleganza nel parlare, sì, secondo me, poi. Quindi a lei sentire imprecare le persone dà fastidio? Un po' sì. Quindi lei non è uno che utilizza un linguaggio colorito? No, sono abbastanza dentro la normalità. Mi trattengo un pochettino, poi se proprio non ce la faccio allora... Però diciamo che sto più dalla parte ragionevole che dalla parte d'arrabbiatura. Secondo lei quelli che dicono tante parolacce stanno veramente meglio? Beh dipende, qualcuno magari sì, qualcuno no. Però se non si dicono è meglio. Quando ci vuole, ci vuole. A lei capita? Non spesso, però quando ci vuole. Quando ti accorgi che le persone o sono false oppure se le meritano. Nella versione un attimino più naturale dei termini, quali sono le parolacce che usa di più? La classica. La classica, la classica. Va a fa' un bagno. L'altra? Direttamente no, però vado sul pesante, sì. Quanto proprio non ne posso più, sì. Quando invece si ritrova in locali pubblici, come per esempio i bar eccetera? No, 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 no. In pubblico mai. Se sono a quattro occhi, sì, però in pubblico cerco di trattenermi. A meno che non sono proprio fuori dalla grazia di Dio. E quando è in un locale pubblico e sente invece gli altri imprecare? Da fastidio, da fastidio, sì. Quindi sia a casa propria, sia nel privato, sia tra conoscenti, ma mai insieme ad altre persone sconosciute? Se si è proprio fuori dalla grazia di Dio escono quasi volontariamente, però se si è in pubblico è meglio evitare. Quindi lei comunque condivide questi studi. Quindi imprecare fa bene alla salute mentale? Molto, molto. Ma non so se condividere o no, so che io impreco moltissimo, quindi penso di sì comunque. Per quali ragioni principali le capita? Sicuramente per il lavoro, quando magari non trovo il parcheggio, che magari qualche problema sul lavoro, e lì vado con una serie infinita di imprecazioni soft però. Cerchiamo di capirci, quali sono quelle maggiori che utilizza? Eh, il classico, ma porca, quelle sono la base, diciamo. Le dà fastidio ritrovarsi in locali pubblici e sentire invece gli altri che imprecano? Beh sì, magari sì, poi è chiaro che vada imprecazione, imprecazione, è chiaro che magari quelle appunto più soft, no, quelle magari che vanno al di là tipo bestemico, assolutamente no, ecco, quello non mi piace. Quindi condivide che imprecare fa bene la salute mentale? Assolutamente sì. Imprechiamo tutti? E via!